Archiviata la Coppa Italia ed il trionfo di Forlì, riparte dopo la sosta il campionato di Serie A2 di pallacanestro, con la sesta giornata della fase ad orologio. H.D.Lennardo Basket farà visita nel Saturday Night al Blue Basket Treviglio, formazione che nel girone verde ha messo da parte sin qui 22 punti, figli di 11 vittorie e 15 sconfitte e che sta vivendo un periodo particolarmente complicato, appena un KO per i bianco-blu prima della pausa, per poi arrendersi a Trieste, Chiusi, Cividale e Verona, con una partita, ossia quella con la Fortitudo Bologna, ancora da recuperare. Se il bottino di 22 punti in graduatoria nel girone occidentale garantirebbe ad oggi a Treviglio i play-off, lo stesso bottino ai Granata nel girone rosso varrebbe l'inferno degli spareggi salvezza, un dato utile per comprendere quanta differenza di valori ci sia tra i due raggruppamenti. La truppa di Dalmonte, dopo il limpido successo ai danni di Monferrato, andrà a caccia di continuità. È chiaro che al Toro non basta più eseguire il compitino, per guadagnare l'ottavo posto serviranno strappi importanti anche in trasferta. Innanzitutto la squadra è in difficoltà, causa assenze pesanti sia dal punto di vista qualità, sia dal punto di vista numerico, perché Pacer, perché Miaschi sono giocatori importanti. All'ultima partita mancava anche Guariglia, quindi una squadra che nell'ultimo periodo è stata condizionata per le assenze nei risultati.